E' una volta... ah era da un bel po' in realtà che non lo faceva Era da un bel po' che Twitch non crashava così Mi ricordate che una volta almeno un crash ogni notte c'era Vaffanculo lady vaffanculo Ninja è colpa di Vortex Nooooo Si che due palle sto livello è noiosissimo madonna Vaffanculo qua davanti al checkpoint vado a morire Vaffanculo 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 Ma all'inizio del livello? Cioè non avevo ancora trovato un checkpoint Ma stiamo scherzando? Vaffanculo 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 E invece no arancino perchè ho esitato un attimo e sono morto E no è infatti un cazzo me l'ho fermato dovevo andare avanti Ah non t'o l'ho fermato no eh vabbè minchia tra sonno e maldito mamma mia di nuovo stavo per morire così fortuna che c'era la maschera ma maschera ma 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 voglio fare almeno il boss mancano due livelli e poi c'è il boss ma 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 ho visto come si muove guardatelo che movimento è quello no c'è scaduta la sub arancino nooo era il mese gratuito o hai fatto il prime arancino ma 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 Non ti fa il primer, non ti puoi più rinnovare. Adesso piano, con calma qui, con calma, piano, pianino, c'è il pesce, mi uccide, si passa un sotto? Non c'è un sotto, piano, ma l'ho colpito, ma, ma, sto male. Sto male. Gabbatissimo. Cerchiamo di arrivare con la maschera lì, per l'amor di dio, dai. Non sa farsi colpire una volta prima. Quanto che abbiamo visto è facile. C'è un pesce rosso, non te le parano. Ok. 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 e c'è la cassa di ferro vedi che è molto più facile usare lui che usare quel cazzo di cosa aspetta c'è la maschera indossata via rush a rush a no non c'è un cazzo di niente è già finito quante vito ho perso in questo livello 7,8 almeno da 22 a 17 quante sono? 5 su 5 può per favore terminare questo livello? oh 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 vieni qua ok finito sti gran cazzi delle casse mamma mia ultimo livello poi boss e poi basta chiudiamo non sei abituato al tempo che fa da queste parti eh tifoni? oh un livello normale non posso andare in ardua 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 si ma è uno di quei livelli di merda dove c'è quel macchinario del cazzo speriamo non ci sia anche in sto livello beh non c'ho più voglia di far cazzo su questa sono curioso ok era una maschera l'utilità di questa cosa no terra in giro ma come sta rientezza non la reggo non devo saltare a sinistra a destra c'è no ok no non faccio manco il bonus guarda se lo trovo proprio puttana la mamma della maschera la mamma della maschera il cristallo dovrebbe essere finito ormai la mamma della maschera la mamma della maschera la mamma della maschera guarda guarda ragazzo arancione piace volare è l'ora di guadagnarti le mostrine ragazzo dai lady dammi un po' di incoraggiamento per il boss oh mio dio è crunch fuso con la maschera di suono è un boss simile a engine bellissimo mi gusta quello come dovrei schivarlo sì ma non perdo un cazzo di vista quanto ne ha ah ok ho capito sì sì c'è uno spazio è difficilino questo eh quando fa con gli occhi è difficile soprattutto è tutto ma da mi potere da mi potere che non ti seguono quei cosi li butta a caso non tinha mi perdono anche l'ora non non che non 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 Ecco va. GG. No, comunque c'ha veramente troppa vita, eh. È esagerato. Non sono anch'io, vedete, voglio uccidere questo stronzo e andare andando. È, è la buscata della storia, eh. È. È, è la busco pure io. È, è la busco pure io. Oh! Che passa? Sono delle carte intabola, guardalo Sì, sì, ma è easy in realtà, c'è tanto un casino di vita Mi hanno cancellato con la vita, perché resta è facile Non ha più fatto roba con gli occhi, astardi Morto? O no? No? Ok, ora sì E' un bazooka! Uff No, finalmente Vediamo il video e poi nanna Non c'è il video? Non c'è il video Vabbè, vediamo il bazooka Allora Ok, grazie mille per essere stati fino a qui, mi dispiace di aver finito Broken Sword Cercherò di arrivare a quel punto di off stream E lo riprendiamo quando... Dopodomani in teoria Comunque lo riprendiamo direttamente dal punto in cui eravamo arrivati A parte che era il finale, penso manchino 20 minuti E niente Grazie a tutti Buonanotte Grazie a tutti